ma e tempo di porto al 2 con sveglia buona eccoci di nuovo efe mi stai trollando ragazzo mi stai trollando il modo credo cazzo no o ova ok andrea e di far andare lì capito fai come le massi io però e mettere tu quando metterli così penso i appari il polui e pareggio sebbè sai che avrei triturato tra 3 2 1 andai me lo devi mettere al contrario me lo devi far andare al contrario e mo? lì sotto sotto di te eh se mi butto crepe no perchè ti cambia subito la cosa del portale devo tornare indietro ok devo rifare tutto è complicato eh cambialo mi hai buttato io te lo so subito cambierei il coso ma se io mi butto come lo metti tu? cambialo eh ma io così crepo si dai sparano là genio eh ah là non l'avevo vista perchè poi li passi ok dai mi parti complica? è che troppo è una questione di gioco di squadra è troppo bello vederti volare in cielo ma nel cielo è sempre più blu no 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 ho perso un po' di vita pronto? aspetta o cazzo o cazzo o cazzo o cazzo mi devi dare tutto il tempo ok aspetta che col calco quanto la città 1 2 4 5 ogni 5 secondi va un bel tempo 2 3 e deve salire intanto tu ok ora ok vai cazzo stai facendo andrea mi fai morire non muori non muore e muore e muore ma là no 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 ok scusa torretta però ti sta mirando ok ma ma devo scendere eh eh caccio giralo giralo aiota ok muori torretta che cosa ci devi fare con torretta distruggila ce la fai distruggerla ma cazzo si distrugge facendola cadere ok ma ma non lo so hai un cubo ah eccolo lì contrario andrea arrivi con un cubo eh no però aspetta lì però poi non posso più passare si tranquillo sai come fare no si è disattivato il coso eh si è notato ah ok vedo che sei buggato mi sono buggato ok rigiralo non vuole che non c'è più il coso sedi ti fai e lasciami un secondo devo perchè sto tenendo la cassa in mano ok vai no aspetta sono ancora in casa ok la cassa sta arrivando ah e tutti i bug io sono buggato ma puoi girare un secondo no deve tornare a arrivare la cassa vai a girare me porcato ma torna al cubo però ok ho girato dall'altro lato se non ti vado arrivare però oh no niente io sono buggato sto rompendo il cazzo eh aspetta fai una cosa prendi qua la fottuta cassa di me non posso prenderla perchè è là sotto boh la lascia cadere là sotto no perchè se arriva giù in fondo si rompe ah quindi aspetta facciamo tornare un attimo indietro provo a prenderla qua provo a prenderla ehi ma aspetta ma io qua posso sparare ok presa ok ho salvato la cassa vieni petern seconda ma petern sono un pirlo ma baffanculo è lì che dovevo andare no merda però come cazzo faccio ah ho capito no la torretta dai fer torretta giramelo riesci a mettermelo lì andrea magari il mio? eh giallo e cosa ho risolto? non lo so oh ce l'ho fatto ok scendi ehm se petern si spara io so appartamento eh bravo qua mi devi sparare qua andrea e mettermi il teleport si lo so eh dove cazzo sono? dai sali al contrario forse sarebbe meglio sali sali la cassa qua no niente lo lascio stare perchè dovrei andare lì con la cassa toh eh bravo lanciamela qua vero stai arrivando vai fammi saltare fammi saltare così la cassa mi segue eh eh prima della cassa me la posso prendere devi toglierlo questa dai prendila ok pronto? vai devo fare una roba rapidissima non devi fare un cacchio devi solo cambiare il giallo cosa stai facendo? ho sbagliato scusa torna indietro altrimenti una cosa metti il raggio un attimo di luce facciamo intanto saltare la cassa ok un attimo facciamo che faccio io va non per il cazzo ok vai cambialo cambialo il verso vai no no cambia mettilo mettilo Lea sbagliato cassa ci arrivate mamma va bene ok vai vedo che ora dovresti venire tu come c'è io? ah basta che salto Sbagliato Perché la sua resta in mano? Voglio portarla con me GG Aspetta a mettere quello Vabbè Risolvo subito il problema Ok Arrivo, sei pronto Basta la torretta La torretta è rimasta lì No Turret La volevo portare con me No Sono un coglione No Solo per la torretta sei andato Sei una merda Non l'ho fatto a posto Ti sto guardando Perché non vado? Ti appa lì Ah la torretta si scontra Ah no è lì Ok Lo chiamerò Billy E ci accompagnerò nelle nostre avventure Andiamo Billy Morto No Billy Era mio amico Era mio fratello torretta Senza gambe né braccia Interrompiamo o facciamo anche l'ultimo del terzo capitolo? Tanto vale fare l'ultimo Il mio amico Billy era mio fratello E' morto Per colpa tua Mia Un pezzo pari snake Non volevi che lo portassi con me Mio fratello Perché di me ti eravamo due torretti una palla Due peni e un testico Due peni e un testico No, hai capito Oh no Due peni e un testico Un testico Un testico Un testico Un testico Ma vaffanculo Sei un pezzo di merda Questi qua sono Timmy Bob E' questo qua è il mio preferito Si chiama Jim E' sparavista No Mi piace stare Jim Dai basta Non abbiamo abbastanza tempo Ehi Luca Ok 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 E' spero che l'explosione potrò il sistema Allora cos'è che dobbiamo fare quindi Io ho già capito E' bravo Si finito tu Pi' avanti Ecco No Perché sono morto Perché sono morto Perché sei un'idioto Allora Cerchiamo di capire un attimo Cosa dobbiamo fare Magari è più semplice Di quello che sembra Beh 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 Sicuramente E' così eh Ti odio Fusione di due cose Ok Ok vengo anche io dai Aspetta Devo prima capire bene Come si fa Ok 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 Sei un'idiota Complicato questo Più che altro non capisco dove devo andare E se con calma diciamo capire Io te l'intero appartemente il tempo non ci basta In effetti Vabbè alla prossima Grazie a tutti